Ciao, sono la dottoressa Giulia Pantalone e oggi voglio darti qualche consiglio per avere mani sempre ben curate. Allora, innanzitutto potresti procedere a un bello scrub ad azione e sfogliante a base di zucchero di canna, miele e qualche goccia di limone. In tal modo andai ad eliminare tutta la pelle secca e avrai delle mani lisce e levigate. Poi, ogni volta che lavi le mani con acqua e sapone, è fondamentale poi andarle a reidratare applicando una crema. Devi prestare oltretutto attenzione alla formazione delle cuticole, perché se vanno a secca si danno maggiormente una sensazione di trascuratezza. E quindi l'ideale è quello di utilizzare un olio che le vada a reidratare. E infine mi raccomando di utilizzare sempre dei guanti durante la stagione invernale, perché le azioni del freddo e del vento tendono a screporare le mani con maggiore facilità. Ti ringrazio per l'ascolto e se ti è piaciuto questo video ti invito a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook. Ciao, a presto! Ciao! 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 Ciao!